Eccoci qua, buongiorno, buonasera, grazie Vittorio per aver accettato l'invito. Ciao Costantino. Stiamo facendo una serie per commentare i vari aspetti dell'elezione di Donald Trump, anche le modalità con cui è stato letto. Con Vittorio vogliamo sapere un pochettino qual è lo scenario internazionale, che cosa c'è da aspettarsi se si può fare una previsione, considerando l'estrema variabilità degli umori e anche delle strategie di Trump. Però ci sono due scenari fondamentali su cui evidentemente l'amministrazione americana avrà un peso, anzi forse tre se ci mettiamo anche l'Europa, perché poi almeno per quanto mi riguarda la preoccupazione più grande riguarda che cosa ne sarà dell'Europa alla luce delle politiche internazionali che sceglierà Trump. Come la vedi Vittorio? Come giustamente hai sottolineato, il tratto principale della personalità di Trump è la imprevedibilità e quindi questo ci dà un ulteriore elemento di difficoltà nell'immaginare che succederà. Detto questo, però ci sono alcuni elementi su cui possiamo ragionare, tratti sia dal precedente quadriegno presidenziale prima dell'amministrazione Biden, sia da alcune dichiarazioni che Trump ha fatto. Le parole sono il secondo oggetto che noi analizziamo quando guardiamo la politica internazionale dopo i fatti, ma nel caso di Trump, come per esempio anche nel caso di Putin, spesso le parole sono coerenti ai noi con i fatti. Allora, la prima cosa che mi sembra di poter dire è che Trump ha una concezione degli Stati Uniti in cui delle due anime, per così dire, una quella della grande potenza con i suoi propri interessi nazionali e l'altra quella di un leader di una coalizione di democrazia, per Trump la prima dimensione mette di gran lunga in ombra la seconda. Questo significa che l'idea di fare l'America nuovamente grande è un'idea che avviene spesso a scapito di tutti gli altri, non solo degli avversari ma anche degli alleati e degli amici. In Trump prevale la visione che tutti siano innanzitutto competitors e poi dentro il mare magno dei competitors ci possono essere competitors più o meno stili, ma comunque competitors sono. Questo implica che per Trump in ogni singola trattativa bisogna portare a casa un vantaggio, quindi non c'è né una logica di perdere qualcosa su un campo, guadagnarlo in qualche altro, né una logica di vedere un po' l'effetto complessivo, tirare il bilancio complessivo dei movimenti. Ora, qui c'è una seconda caratteristica della visione di Trump, che è collegata a questa evidentemente, che Trump non sembra annettere grande importanza non tanto agli alleati, perché non è che qui si tratta di fare beneficenza, ma di annettere scarsa importanza a quella che è stata una caratteristica e che resta una caratteristica centrale e distintiva della leadership americana nel secondo novecento e anche in questo scorso di nuovo secolo, ovvero la grandissima capacità federativa. Gli Stati Uniti hanno avuto e hanno una capacità di essere al centro di una serie di alleanze multiple, diciamo così, a schera variabile, come nessun altro nella storia è mai stato capace di realizzare. Neanche i predecessori degli Stati Uniti stessi nel ruolo di leader del sistema, mi riferisco alla Gran Bretagna. Spesso dimentichiamo che la Gran Bretagna nel 1914 aveva solo un'alleanza piuttosto lasca, peraltro, con la Francia, la famosa Entente Cordiale, ma la Gran Bretagna non entrò in guerra nel 1914 perché la Germania aveva dichiarato guerra alla Francia. Entrò in guerra perché la Germania aveva invaso il neutrale Belgio, quindi per interessi squisitamente, diciamo così, nazionali inglesi. Ecco, se guardiamo a ruolo dell'America nel secondo dopoguerra, vediamo una fittissima rete di alleanze più o meno istituzionalizzate. Trump sembra che per Trump questo non sia così importante. Per Trump le uniche vere risorse di un attore sono le risorse che ha al suo interno, non quelle che riesce a mobilitare attraverso una rete di alleanze. E qui poi c'è il terzo elemento di novità rispetto alla conduzione, diciamo così, classica e bipartisan della politica estera americana fino ad adesso. Lo scarso ruolo, la scarsa stima che Trump ha per le istituzioni internazionali. Ora, come abbiamo detto tante volte, il fatto di avere costruito così tante istituzioni internazionali è un elemento tipico della leadership americana, è un elemento che lei ha consentito di esercitare quel soft power evocato da Nye in un lavoro di ormai diversi decenni fa e ha consentito quindi un aspetto fondamentale di riuscire a suscitare meno opposizione. Lavorare attraverso le istituzioni ha significato per gli Stati Uniti preoccupare meno gli altri attori e quindi in qualche modo fare sì che gli altri attori non reagissero immediatamente a eventuali aumenti delle capacità americane. Trump non crede in questo tipo di lettura, pensa che le istituzioni siano vincoli che ingabbiano la volontà e la capacità americana. Scusami se ti interrompo, perché è un dibattito che si tiene anche in Italia e non soltanto in Italia, in Europa direi, a prescindere dal funzionamento di queste istituzioni, perché la critica al funzionamento delle istituzioni è una critica legittima che si può fare a seconda dei momenti, ma è l'istituzione stessa che viene messa in discussione. Dico bene? Assolutamente, è proprio questo Costantino, qui non stiamo parlando dell'efficacia, neanche meno dell'efficienza, ma stiamo parlando della razio, della legittimità delle istituzioni. Ora ti dico due cose, da un lato, e questo non vale solo per gli Stati Uniti purtroppo, c'è una forma di insofferenza per le istituzioni, che non riguarda solo le istituzioni internazionali, ma che riguarda anche le istituzioni domestiche, tutta l'irritazione per la separazione dei poteri, che negli Stati Uniti è molto rigida, tradizionalmente, tutta l'idea che quando si vincono le elezioni si debba poter fare quello che si crede opportuno, senza che le burocrazie pubbliche si mettano di traverso, senza che gli altri poteri dello Stato complichino questa cosa, non è purtroppo una cosa che sentiamo solo negli Stati Uniti, la sentiamo anche qua. Ed è un atteggiamento che, se ci pensiamo per un attimo, è molto pericoloso. Perché? Perché da un lato è alimentato evidentemente da quelli che ritengono che il popolo sovrano sia la fonte di recitazione del potere e dell'autorità politica e quindi non debba trovare ostacoli. Dall'altro è però alimentato anche da quelli che pensano che le istituzioni debbano essere una diga nei confronti della somalità popolare. E sono due ragionamenti scorretti, entrambi. Il primo dimentica che la democrazia rappresentativa non è solo una teoria della legittimazione dell'autorità politica, ma è anche una teoria del limite al potere politico. Questo per motivi storici, per così dire, perché nasce figlia del costituzionalismo che si pone il problema di vincolare il potere del sovrano che non è il popolo in origine. Ed è sbagliata però la seconda sbaglia perché non si rende conto che le istituzioni devono, non sono dighe, ma sono canali, canali all'interno delle quali poter convogliare e quindi rendere non distruttiva quella forza enorme che è la sovranità popolare, che è utilissima, esattamente come l'acqua utile nei canali, perché consente di fare cose che altrimenti sarebbero impossibili, ma che sia lasciata senza nessun tipo di regolazione rischia di essere distruttiva. E quindi mi pare che questo atteggiamento di Trump sulla sua dimensione internazionale sia lo stesso che Trump ha sostanzialmente nella dimensione domestica, ripeto, riguarda un po' tutte le democrazie in questa fase. Ora, se noi andiamo anche a vedere quel discorso che tu facevi sull'efficacia, Trump ha smontato un'istituzione che era risultata essere estremamente efficace, ha smontato il Joint Comprehensive Plan of Action, cioè l'accordo internazionale per il controllo dell'arricchimento dell'oraio da parte dell'Iran. Quella era un'istituzione multilaterale, giuridica, su base che coinvolgeva un quintetto, diciamo così, delle grandi potenze, più l'Iran. Non trasformava l'Iran in uno stato ben frequentabile, per così dire, ma ingaggiava l'Iran all'interno di un processo che funzionava. Noi avevamo tutti i riscontri da parte delle blocazioni degli stati membri e della stessa burocrazia dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che è una burocrazia estremamente severa, tanto che è una burocrazia facilona, ricordiamoci... Anche giustamente. Giustamente, ma ricordiamoci che ai tempi della guerra con l'Iraq nel 2003, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prima dell'invasione tende un atteggiamento molto, come posso dirti, preoccupato del fatto che effettivamente l'Iraq potesse essere in gado di sviluppare armi di distruzione di massa ed effettuò una serie continua di ispezioni a sorpresa nell'Iraq di Saddam Hussein. Quindi non stiamo parlando di una burocrazia, come posso dirti, paciosa, tutt'altro. Trump smontò quella cosa lì come primo atto della sua amministrazione praticamente in politica estera. La conseguenza di questo smontaggio fu molto semplice, fu dire a tutto il mondo, in particolare i paesi della regione, guardate, l'unico modo per controllare una questione molto spinosa non sono le istituzioni internazionali, anche se funzionano, ma l'unico modo sono i rapporti di forza, la minaccia e l'uso della forza, da quelli che tutti gli attori hanno registrato e si sono conformati. Quindi non è che pensiamo questo di Trump perché Trump è un volgarotto, ma perché ha dimostrato nei fatti il rilevo che dà alle istituzioni. Sulle crisi se tu volevi un... Sì, sì, volevo un tuo parere sulle crisi e anche se lo ritieni, se hai voglia, sulla quanto è concreta la possibilità che un'amministrazione americana sotto Trump possa effettivamente essere un acceleratore oppure un risolutore addirittura di un paio di crisi. Io ho enormi dubbi, però volevo sentire la tua. Allora, anch'io ho enormi dubbi, anche perché bisogna intendersi su come si risolvono le crisi e su questo noi sappiamo che ci sono due crisi maggiori in questo momento aperte, ci sono altre potenziali in arrivo, ma due sono aperte, sono aperte una da quasi tre anni e una da oltre un anno, entrambe sanguinosissime, entrambe pericolosissime per la possibilità di allargamento o di minaccia a zone contigue. Su entrambe sembra che Trump abbia un'idea che è tutto sommato coincidente. Per chiudere le crisi è necessario che chi è in vantaggio sostanzialmente possa chiudere la partita e possa trasfermare il vantaggio diciamo così militare in un successo politico. Possiamo girare intorno tutto il giorno per vedere come abbellire questo concetto, ma se vediamo cosa sta dicendo Trump sulle due crisi o cosa ha detto fino a questi mesi Trump sulle due crisi sembra abbastanza così per quanto riguarda il Medio Oriente sembra che l'idea di Trump sia lasciamo che gli israeliani finiscano il loro lavoro eliminino i loro nemici e quindi poi il mondo potrà tornare a imboccare quella strada che io Donald Trump avevo indicato per la pace in Medio Oriente attraverso i fantomatici accordi di Abramo. Ora come capite bene questo è dal punto di vista dell'etica politica un abominio dal punto di vista del diritto internazionale uno sfregio dal punto di vista della prudenza politica un rischio incredibile perché quando Netanyahu riterrà che la situazione sarà sufficiente per fermarsi da come si sta muovendo probabilmente quando avrà completamente distrutto la società palestinese prima Gaza e poi con strumenti diversi ma con lo stesso scopo anche in Cisgiordania Permettimi è liberato perché le notizie che abbiamo nelle ultime ore degli ultimi giorni sono di un sgombero della parte nord della striscia di Gaza certo con lo scopo di farne una zona cuscinetto consentire la ricolonizzazione da parte di quella mandria di israeliani estremisti che sono sempre più ampi e determinanti negli equilibri politici interni che danno sempre di più il mood della cultura politica israeliana israeliana attenzione non ebraica non commettiamo l'erogio di scambiare anche per esempio quei quattro fascisti dei tifosi del Maccabi con i cittadini ebrei che vivono nelle nostre democrazie perché se no dopo di me ti faccio fare tutta la solita retorica in cui si scambiano ad arte le parti tra le vittime innocenti giustamente è un branco di fascisti razzisti che si è permesso di fischiare addirittura il mutuo di silenzio per Valencia perché la Spagna ha riconosciuto la Palestina cioè siamo a questo livello sui giornali italiani chiaramente tutto questo finisce in fondo devi leggerci quattro passi di un articolo per trovare quell'accenno se uno va a guardare i siti internazionali la cosa è un pochino più articolata ma detto ciò il rischio vero è che Netanyahu vada avanti e che nella testa di Netanyahu questa sia l'occasione per chiudere la partita anche con la Repubblica Islamica dell'Iran e quindi dargli il disco verde significa tutt'altro secondo me che chiudere la partita ma significa aprirne una più grande e su questo bisogna capire come Trump pensa di non farsi coinvolgere ammesso che lo voglia sulla crisi sulla guerra della Russia in Ucraina pare che l'atteggiamento sia lo stesso sostanzialmente chiudere la partita consegnando a Putin i territori più obblast occupati obbligando gli Ucraini a liberare con le poche decenni di chilometri quadrati centinaia di chilometri quadrati di territorio russo che ancora occupano nel Kursk ottenere una neutralità permanente dell'Ucraina con una ampia fascia smilitarizzata e dopo ha consentito al fatto che l'Ucraina non entrerà nella Nato per un periodo X si parla di vent'anni che come capisci parla di vent'anni c'è un c'è un editoriale adesso non mi ricordo a firma di chi qualche giorno fa sul Washington Post che descrive proprio queste ipotesi di tavolo di trattativa vedo perché se le garanzie di sicurezza militari all'Ucraina saranno sul capo dell'Europa allora poveri ucraini o se saranno anche sul capo degli Stati Uniti allora forse la cosa potrebbe avere un minimo di credibilità è possibile è plausibile come vedete in ambe due queste soluzioni non c'è nessun tipo di interesse per quello che è un concetto di equità di giustizia e io sono formamente convinto che le paci non giuste non sono paci sono tregue che apparecchiano solo a conflitti ancora più distruttivi ora malauguratamente tutte queste cose che potrebbero essere appunto le ipotesi dei movimenti di Trump rispetto a una guideline che appunto è quella del chiudiamo chiudendo diciamo così consentendo che la prevalenza si trasformi in un successo vero e proprio sono molto pericolosi per l'Europa evidentemente perché qua c'è una questione enorme che è stata sollevata anche dal vertice di Budapest come hai visto cioè certo si è detto l'Europa può cogliere l'occasione per fare finalmente quei passi necessari per darsi una maggiore unità politica una maggiore capacità di difesa di proiezione della sicurezza oltre i confini una migliore capacità di produzione automa di sistemi d'arma e via riscorrendo il problema è che sono quasi tre anni che diciamo che abbiamo questa opportunità che Putin ci ha buttato tra i piedi invadendo l'Ucraina grandi cose non sono successe quindi non si esce a capire perché stavolta dovrebbe succedere il vertice di Budapest è stato molto deludente da questo punto di vista addirittura di fronte all'ennesima diciamo così discussione intorno al documento preparato da Draghi il vertice ha fatto esattamente quello che Draghi diceva che non si può più fare cioè ha preso tempo quindi come stiamo messi e anche sugli impegni militari persino Meloni che apparentemente così a chiacchiere così solidale pronta difendere esatto l'Ucraina è così marziale quando fa il cipiglio e mette nel metto ha già detto che sì l'aumento delle spese militari certo è necessario però poi ci sono i mezzi da trovare come si sa se i mezzi non ci sono dato che lei non intende tassare di più gli italiani falso l'ha già fatto dato che lei non intende tagliare le spese fondamentali sanità istituzione di ricerca falso l'ha già fatto allora per le spese militari vedremo dove trovare i soldi e dovranno darci il modo di sostanzialmente fare debito esforare qualche parametro posso che Giorgetti ha già detto che per adesso è anche sicuramente per il prossimo anno due prossimi anni finché saremo diciamo con i conti così scassati quindi potrebbe essere anche molto di più non ce la facciamo raggiungere il 2% volevo aggiungere una cosa su questo Vittorio perché poi in questi giorni ho parlato molto sai che nella nostra bolla quella delle frequentazioni dove c'è più o meno comunione di pensiero e cioè una bolla diciamo europeista a favore di una maggiore integrazione si è risvegliato almeno io così ho visto un sentimento adesso è la volta buona perché Trump ci lascia in mezzo al mare e noi dobbiamo imparare a navigare in mezzo al mare a me sembra che il momento sia pessimo sotto questo aspetto ovvero manca coesione più di quanto sia sempre mancata coesione all'Unione Europea anzi quella parte di paesi dell'Unione Europea che possiamo indicare come urbaniani a questo punto si è ringaluzzita evidentemente Urban ha fatto una dichiarazione in cui proprio prendendo lo spunto dalla vittoria di Trump ha sostanzialmente evocato andremo a Bruxelles e ci prenderemo l'Europa e faremo l'Europa delle nazioni come la vogliamo noi non l'Europa Unita dall'altra parte questo mi sembra l'aspetto più grave vediamo se siete d'accordo come mai nella storia manca in Europa una figura di riferimento o più figure di riferimento manca il leader cioè non abbiamo leader europei in nessuno neanche degli stati guida anzi considerando la situazione in Germania peggio mi sento non abbiamo leader non abbiamo statisti non abbiamo persone che hanno visione e capacità di assumere impegni e provare a portarli a termine c'è un tentennamento continuo che non è secondo me legato soltanto dalla frammentazione politica in Unione Europea ma proprio dalla mancanza di personalità tu come la vedi? Sì questo è un punto centrale allora poi torno a gambero sull'Europa di me strutturata ma come ti dico subito che sono molto d'accordo con te ahimè vorrei poter essere in disaccordo in questo caso ma sulla leadership non si vedono leader nel senso che quei pochi che hanno delle buone idee che però le hanno quando non le possono più attuare spesso capita così anche in Italia io non sono mai stato renziano nella mia vita non mi ho mai convinto Renzi mi è sempre sembrato un ganassa come si dice in Milano attento e anche un provinciale insomma per cui attento attento alle cose sue più dei amici suoi più che agli interessi nazionali o europei poi da quando all'1,8% insomma a una percentuale che avrebbe fatto orrore persino al partito liberale di Zanone in via dei tempi gloriosi ogni tanto tira fuori idee no interessanti quando poteva realizzarle però tira fuori vaccate quindi questo è abbastanza buffo però al di là del toscano ma il pensa a Macron Macron dice delle cose secondo me è quello che dice le cose più sensate però le dice adesso se vuoi e quando era più in spolvero non è che aveva fatto grandi passi in quelle direzioni e comunque non ha la capacità di imporre queste cose neanche all'interno del suo paese in Germania appunto Scholz probabilmente sta facendo il giro dei saluti non vedi nessun leader tant'è che i colonnelli della Meloni parlano della Meloni come un leader europeo perché ha vinto le elezioni che peggio mi sento ma non perché io sia antemeloniano per qualche motivo idiosincratico ma perché la visione dell'Europa di Meloni è molto più vicina alla visione dell'Europa di Orban che non alla visione dell'Europa di Macron o nostra cioè in cui l'ulteriore cessione di sovranità che significa poi attenzione l'ulteriore messa in condivisione della sovranità nazionale perché non è che stiamo regalando via la mettiamo in condivisione è un'altra cosa allo scopo di costruire una più forte quindi di avere più sovranità complessiva nel mercato del mondo non è quella che lei pensa lei pensa che l'Europa delle nazioni un concetto vecchio a tempi di De Gaulle per così dire sia la soluzione quindi sì c'è questo c'è questa scelta di questi movimenti di questi partiti non più di diciamo così portarci fuori dall'Europa che pur l'hanno pensata ai tempi poi si sono resi conto che era impossibile anche visto con la Brexit risultati ma di dirottare il progetto europeo e in questo momento non è così difficile che le difficoltà sono tante ora qual è la preoccupazione grande è vero che si dice no sì sei in mezzo al mare e quindi devi imparare a navigare o a nuotare o altrimenti affoghi la più parte delle persone che cadono in acqua e non sanno nuotare non è che immediatamente imparano a nuotare affogano per cui non sarei così contento di dire siamo talmente nelle canne che saremo costretti a che dovremmo perché capisci un conto è dire cosa si dovrebbe fare e un conto è pensare che riuscirai a fare e il vento politico che tira in Europa non va nella direzione di pensare che tireremo fuori il coniglio dal cilindro ora c'è un altro elemento della presidenza Trump che può preoccuparci il fatto che Trump abbia un atteggiamento per cui questa sua diffidenza verso le istituzioni internazionali da un lato e d'altra parte questa sua diciamo così visione sovranista della politica internazionale lo porterà a sottovalutare il ruolo dell'unione come appunto unione e a cercare semmai di avere accordi e relazioni specifiche con alcuni paesi e con alcuni leader con cui sente maggiore sintonia o di cui ha più bisogno ora il rischio è proprio quello che l'Italia abbocchi a questa politica e che Meloni si convinca penso che c'è un grande sforzo che lei potrebbe essere appunto potrebbe acquisire rilevanza in un rapporto più stretto con Trump e affrire con Trump una trattativa in cui nel numero dell'interesse nazionale italiano possa trovare le vie di accordo al di là di quelle che sono le posizioni europee ora io cosa penso di questo chiaramente che sarebbe una scelta che risponderebbe esclusivamente a visioni di politica interna cioè per farsi bella rispetto all'opinione pubblica interna che tanto non distingue diciamo così un ciuccio da un cavallo e poi per questioni di coalizione interna perché comunque ha sempre a che fare con un signore che si chiama Matteo Salvini che quando non porta diciamo non attacca il carro al cavallo russo lo attacca comunque a chiunque possa essere ostile agli interessi europei questo potrebbe essere molto grave perché capisci che se tu hai una Francia che ha problemi che ha una Germania che ha problemi che ha una Spagna che avrà problemi perché non dimentichiamoci che quello che è successo con l'alluvione del post-alluvione avrà conseguenze pesanti non solo sul governo ma sull'assetto istituzionale spagnolo che era riuscito a riprendersi da quella idiozia dell'autonomica dell'indipendenza catalana per il rotto della cuffia con una Polonia in cui sì abbiamo avuto fortunatamente delle elezioni politiche che hanno riportato i più europeisti in ambito polacco dentro alla leadership ma la situazione non è certo risolta una volta per tutte a quel punto l'unico grande paese che resta è l'Italia se l'Italia si presta a questo gioco capisci bene che le prospettive europee e poi Vittorio questo cozza con la descrizione che davi dell'idea di Trump delle negoziazioni dei trattati cioè io mi siedo a trattare se ho qualcosa da guadagnarci cioè la somma per Trump deve essere sempre maggiore di zero e chiaramente sì è chiaro che da un punto di vista politico Meloni che a dispetto di quello che va dicendo lei e di quello che vanno dicendo i suoi i suoi alleati di partito e non di partito ha perso evidentemente una centralità in Unione Europea ha bisogno della sponda americana però c'è una tale disparità di forza di capacità di penetrazione di capacità negoziale che se questi sono i presupposti Meloni non può sperare di uscirne con uno zero a zero no è figo che lei pensa di uscire con un vantaggio per noi un vantaggio per loro nel senso addirittura con una situazione in cui tutti vincono francamente abbastanza puerile però questo è il quadro europeo su questo quadro il paradosso è che nonostante in Italia venga descritto sempre come uno che ha problemi il leader laborista della Gran Bretagna potrebbe avere un peso in qualche modo perché è chiaro che se pensiamo a una prospettiva di capacità di difesa europea e su questo il Regno Unito nonostante la Brexit è sempre rimasto molto diciamo così alla ricerca di un allenamento di una collaborazione attiva con l'Unione Europea sul settore della difesa e della sicurezza Stormer potrebbe dirci qualcosa perché Stormer comunque sta facendo una cosa importante secondo me che è quella di provare a rimettere in piedi un'idea progressista concreta ma progressista non rinunciataria anche in termini economici anche dando contotendenza elevando le tasse a chi le può pagare sostanzialmente per cercare di salvare il sistema sanitario nazionale e questo secondo me è una cosa che potremmo tenere d'occhio e guardare con molta più attenzione di come si faccia non sto dicendo che necessariamente Stormer sarà un nuovo Blair o un nuovo Clinton o chissà che però penso che lì ci sia un laboratorio in questo momento con una serie di complicazioni non facile la Gran Bretagna non è un paese facile non lo era quando era nell'Unione è ancora più incasinato da quando è uscito non c'è dubbio però è un laboratorio da tenere d'occhio ed è l'unico laboratorio della sinistra che c'è in questo momento in Europa perché se vedi da noi nessuno può prendere seriamente come laboratorio della sinistra la costituente dei 5 steli che francamente è diventato il partitino di Conte che lo avvia sulla stada del decrino alla Lega di Salvini c'è una roba che se va bene si parcheggerà da 8-9% e magari imbriglierà dei voti per chissà quanto tempo ma non c'è uno straccio di idea e niente di che sia paragonabile a un'idea di progresso e neanche sul fronte dei verdi di sinistra che sicuramente hanno idee di sinistra su questo è indubitabile ma di una sinistra vecchia secondo me dove la vetustà non sta nel fatto che ti richiami ma sul fatto che non fornisci risposte complesse per i problemi complessi cioè dice alcune cose che è benissimo ok quello potrebbe essere interessante ma tutto il resto come cavolo lo fai e per esempio sulla sicurezza sulla necessità di contrastare l'aggressione e l'aggressività russa non c'è niente sulla necessità di un rilancio industriale che non trasformi l'Europa in una specie di Disneyland in cui gli europei fanno i guardiani giapponesi cinesi in giapponesi ormai no i cinesi e americani semmai faranno e quando torneranno i russi i russi faranno i visitatori e magari anche gli azionisti non c'è niente come diavolo rimettere in piedi mettere insieme più giustizia sociale e contemporaneamente però far riprendere la crescita anche lì non vedo niente cioè l'atteggiamento antimoderno mi sembra che resti impregiudicato mentre noi abbiamo bisogno di una grande colpo di reni per capire come può essere la modernità del ventesimo secolo secolo scusami cioè la modernità significa proprio fede nel progresso fede nell'uguaglianza come premessa della libertà e della democrazia fede nella parità di genere fede in alcuni valori che sono rinunciabili e come tutto questo fede nelle istituzioni fede nello stato di diritto certo nello stato di diritto nelle istituzioni nella separazione dei poteri nel check and balance cioè la grammatica essenziale di una democrazia possibile quindi insomma la situazione come si dice è maledettamente interessante e come dicono i cinesi poveracci quelli che vivono in epoca interessanti e quindi concludo solo dicendo sulla questione cinese lì Trump sembra orientato ad andare a go go sui dazi faccio fatica a capire come fa avere una politica di dazi altissima e contemporaneamente lottare contro l'inflazione perché gli americani non è possibile non è possibile io ecco scusami se mi inserisco perché ne ho parlato l'altro ieri sera di questo prima si parlava di check and balance di tenuta delle istituzioni interne Trump ha per due anni almeno diciamo un potere molto esteso no? Senato Congresso abbiamo visto Corte Suprema rimane un presidio che è quello della Fed allora io sono sicuro che farà pressione sulla Fed quando comincerà a mordere l'inflazione voglio sperare che la Fed resista e però lui cambierà due anni per Powell due anni sono tanti esatto quindi il presidio rimane quello perché è evidente e meccanico che ci sarà un aumento dell'inflazione magari non subito ci vorrà un annetto prima che l'inflazione cominci a mostrarsi e guarda caso sarà il periodo in cui andrà a scadenza Powell certo l'inflazione è alta negli Stati Uniti per gli standard americani ma anche in realtà ormai per gli standard dominanti perché ormai quell'inflazione che hanno negli Stati Uniti è considerata un'inflazione alta il mood ma anche se vai dopo oltre il 2% devi preoccuparti quindi molto lontano dai tempi in cui un ragazzo ha l'inflazione al 20% e diceva 20 è un po' altina però se arriviamo al 18% cominciamo quella parte degli scherzi certo infatti lui penso che andrà su estrazione e commercializzazione del petrolio a go go per cercare di abbassare il costo della bolletta energetica e questo in qualche modo gli consentirà di compensare una parte dell'aumento dei prezzi a consumo legata a eventuali dazi verso tutta la roba a basso costo che arriva dal fariste che per gli americani importanti il 70% della pila americana è fatto dal consumo quindi se i consumatori iniziano ad avere problemi il pil si incarta vediamo però quello è preoccupante e su Taiwan la sensazione che su Taiwan Trump possa essere più possibilista cioè non dirò che consentirebbe un colpo di forza da parte cinese però penso che darà un segnale del tipo ribadiamo che dovrebbe stare una soluzione pacifica con Taiwan ma trovatela che sia minimamente accettabile poi noi non sosterremo una resistenza per così dire taiwanese certo esattamente come in Ucraina gli ucraini e i taiwanesi poi sono gli ultimi depositari di cosa vogliono fare della loro vita grazie a Dio dopodiché chiaramente i rapporti di forza sono quelli che sono per cui mi sembra che abbiamo toccato un po' dire di sì dire di sì abbiamo sperato un po' rispetto a quello che ci avevamo detto però i temi sono talmente interessanti scusami no 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 figurati io resterei ancora va bene Vittorio ti ringrazio tanto e ci vediamo presto grazie a te Costantino è sempre un piacere essere con noi se posso permettermi di liberare assolutamente è un onore veramente stimolante e alla prossima ciao ciao ciao